Dobbiamo risalire, addirittura abbiamo degli esseri monocellulari come la euglena che avevano un elemento fotosensibile che permetteva la percezione della luce, ma quelli che hanno sviluppato degli occhi simili al nostro, direi che per i primi sono i ciclostomi, cioè vogliamo metterla più semplice, pesci, i ciclostomi sono gli antenati dei pesci, i pesci hanno già un occhio a tipo di camera che assomiglia molto al nostro occhio, anche se poi nei dettagli e anche nella funzione è molto differente. Ci sono animali in cui l'occhio, la vista, il senso della vista è accessorio, cioè è utile ma non è così centrale come nell'uomo. Ci sono invece animali visivi come è l'uomo e come sono gli uccelli in cui la funzione visiva è di enorme importanza e naturalmente mano a mano che si è sviluppata ha creato un maggior successo della specie, cioè la specie ha successo se ha dei vantaggi. Allora in determinate situazioni il comparire di una visione molto dettagliata, molto utile diciamo, ha permesso un successo evolutivo. Faccio un esempio, la visione del guffo è una visione prevalentemente notturna che non possiamo dire che sia eccellente, però è eccellente per il tipo di vita del guffo, per il suo modo di cacciare, mentre quella del falco che caccia di giorno a luminosità elevate è del tutto differente e anche lì non possiamo dire che è migliore, è migliore per quel tipo di vita che fa quell'animale lì. Grazie. Grazie. Grazie.